musica questa è la pizza margherita è buonissimo e saporito anche ottimo è buonissimo è buonissimo dentro cosa c'è? il formaggio c'è il pane il pomodoro la farina mozzarella mozzarella acqua l'olio questo è il basilico è buonissimo 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 tutto ci sono E che cos'è l'ingrediente di quelli? Aline, olio, sale, sal Tu prendi un altro cucchiaino? No perché? Almeno aiuto a cui? Oh, più grande, dai Amici, quando aiuto un po' la salsa? Mettiamo ancora la salsa? Un pochino Adesso arrivo, un attimo Dopo di quello cosa mettiamo? Comaggio, mozzarella E poi? Prosciutto Prosciutto Ma tutti e due? No No, prima una della volta Una tutto il formaggio Prima devi spalmare il formaggio No, prima tutto il formaggio Poi dopo il formaggio E il prosciutto Così sono diversi Patto Brava E di cui ha? Sì, è tutto Io non ho ancora Posso mettere? Arrivo Poi mettiamo la mozzarella sulla pizza Poi mettiamo la mozzarella sulla pizza Ok Ok e adesso prendiamo il plascio Adesso mettiamo il prosciutto Crociutta, fata, c'è, c'è Adesso mettiamo il prosciutto Adesso abbiamo una pizza al prosciutto Adesso mettiamo il forno Ok, per quanti minuti? 15 minuti Prima mettiamo questo al formaggio Al formaggio solo? Sì, mi piace questo, il prosciutto, il prosciutto, il prosciutto, il mozzarella, il pomodoro Ok Il sorprete Oh Il sorprete Il sorprete L'unico È dal È dal Grazie.